Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Pala Rosselli di Aprilia, diciassettesima giornata del campionato di Serie C2, girone C, ed è un big match qui alla Pala Rosselli, lo United Aprilia ospita la seconda della classe, ovvero la Virtus Saniene, arriva il fischio, partiti, Pignatiello, il testo è dibattuto, poi ancora Pignatiello, Pignatiello, ancora Pignatiello, la respinta da parte di Spaziani, poi Galieti, Rocchi intanto prova a proteggere la sfera, pallone per Chilelli e palla in rete, stilettata di Chilelli, 1-0 Virtus, Galieti, il destro la parata da parte di Spaziani, calcio d'angolo, Galloppi, carica il destro, la deviazione, poi arriva il destro di Santonico, viene fermato, poi De Marco, De Marco per Serpiedri, miracolo di Spaziani, break dell'aprilia, con De Marco, il destro, poi arriva il tapin vincente di Andreoli, pari United, rimessa Virtus Chilelli, pallone che arriva a Galloppi, gran diagonale al volo, palla fuori di poco, arriva Rocchi, ma il tiro se lo prende Galloppi, che mette dentro il nuovo vantaggio Virtus, 2-1, Trobbiani, pallone per Bernoni, arriva il pari, Bernoni, anzi Pignatiello, pallone che arriva a Rocchi, il sinistro contrato, poi ci riprova ancora Rocchi, e stavolta va a segno, dopo due tentativi, arriva la rete di Daniele Rocchi, parte Chilelli, poi la combinazione con G. Berti e palla in rete, per il 4-2 della Virtus, sulla sfera Galloppi, ancora Chilelli, la deviazione, poi c'è il palo, De Marco, De Marco, riaprire il match, Galieti contro Spaziani, Galieti, palla in rete, Spaziani, Santia, prova lui e palla in rete, arriva la quinta marcatura Virtusina, 5-3, termina l'incontro, la Virtus Aniene vince 5-3 sul campo dello United.